Il bambino voleva fare il gioco della puntura e si era incuriosito per una cicatrice che avevo all'inquine. Con queste parole un pensionato di 60 anni si è giustificato davanti ai carabinieri di Marotta, un orco che il giugno scorso, approfittando dell'assenza della moglie, ha abusato sessualmente di un bimbo di 8 anni, affidatogli insieme al fratellino di 9 dai vicini di casa che dovevano andare ad un funerale. Ma una volta tornati, dopo poche ore, la mamma si accorta che il piccolo, stranamente, aveva la maglietta all'interno dei pantaloni e non fuori come al solito. Lo porta subito a fare la doccia e nota degli strani arrossamenti. Comincia a chiedere cosa si è successo, ma il piccolo non risponde. Il grande, invece, fa qualche piccola ammissione e poi ha cominciato a raccontare che il vicino si era spogliato, chiedendo loro di fare altrettanto per giocare insieme. Lui aveva rifiutato e si era messo a guardare la tv. Il fratellino, purtroppo, aveva accettato. La mamma, allarmata, li ha convinti a raccontare tutto nei dettagli e, inorridita, è andata a gridare tutta la sua rabbia al vicino, che però è rimasto impassibile. Dopo essere corsa con il marito dai carabinieri, sono partite le indagini. Gli investigatori hanno perquisito l'abitazione dell'anziano, filmando la stanza dove è stato commesso l'abuso, perfettamente coincidente al racconto dei bambini. E inoltre hanno sequestrato un computer, dove però non è stato trovato materiale pedopornografico, bensì solo dei videoporno. Nel frattempo, i medici del pronto soccorso di Fano, medicando il bambino, hanno riscontrato quanto già constatato dalla mamma. Con l'accusa di atti sessuali compiuti su un minore, per il pedofilo non è scattato l'arresto, ma il divieto di dimora nei comuni di Fano e Mondolfo. Ora, lui vive in provincia di Ancona, mentre la sua piccola vittima è seguita dai servizi sociali e da uno psicologo. Grazie. Grazie.